a mio padre. Quindi sì, sono sicura. Chi avrebbe mai detto che avrei vissuto fino a vedere il giorno in cui Hope Michelson non si sarebbe precipitata a sacrificarsi? C'è ancora tempo. Vuoi che glielo dica io? Ho evitato abbastanza cose per oggi. Lo farò io. Ma non allontanarti. Potrebbe servirmi il tuo aiuto per immobilizzarlo. Ho pensato che servisse un po' di divertimento, del tempo per creare ricordi con le persone che amiamo.